Operazione anticrimine a largo raggio per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Tre gli arresti messi a segno dai militari dell'arma che hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata. Nel comune di Palma Campania i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga un 37enne incensurato del posto. L'uomo a bordo della sua auto era evidentemente nervoso. Quando i carabinieri hanno approfondito il controllo hanno trovato nel cofano ben 10 chili di cocaina purissima suddivisa in 10 confezioni da un chilo. Singolare che ogni pacco di droga presentasse al suo interno una banconota colombiana e in basso rilievo una svastica. La cocaina avrebbe fruttato oltre un milione di euro nella vendita al dettaglio. Durante le diverse perquisizioni domiciliari effettuate dai carabinieri del comando provinciale a finire in manette per detenzione abusiva di arma e ricettazione il 30enne Simone Bartiromo e un 32enne incensurato. Il primo è di Marano di Napoli mentre l'incensurato è del rione Traiano. I carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto nella loro abitazione di San Gennaro Vesuviano una pistola risultata rubata e pronta all'uso e 12 munizioni calibro 9x21. Rinvenuti e sequestrati anche 13 chili di sostanza da taglio, un impianto di videosorveglianza con 7 telecamere perimetrali, diversi smartphone e 3 catane. I 3 arresti sono stati convalidati e tutti rimangono in carcere.